Sto facendo la doccia, ma è possibile mai? Io voglio cantare una canzone diversa, non voglio sentire queste musiche. Uno si fa la doccia e poi sente sempre queste musiche che arrivano dai vicini. Voglio andare a litigare, quest'oggi voglio proprio litigare con la vicina che mette sempre la musica così alta. Andiamo a vedere chi è. Questa volta ti faccio vedere io, cosa ti faccio. E lei che mette la musica. Sentite che musica bruttissima. Andiamo a vedere. Vado lì, prendo la radio e me la porto via. Toc toc. Ma che bussi, no? Sono Pappagallo Lallo. Ma che bussi! Io mi stavo facendo la doccia e volevo fischiare una mia canzone. E quale vuoi fischiare? La canzone dei pappagalli. Ma fischiare? Quella che fa chi 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 chi. E invece devo sentire questa lagna. Quanto? Tutto il giorno questa lagna. Qual è? Questa, è una lagna. E qual è? Non la voglio sentire questa lagna. Qual è? Senti, per favore dammi questo coso che me lo porto via. Chi te l'ha portato Babbo Natale questo telefono? Sì. E allora adesso chiamo Babbo Natale e gli dico di riprenderselo. Babbo Natale! Lalla è proprio uno stupido! Babbo Natale? Dove sei? Che c'è? Eh? Per favore, ti puoi riprendere quella cosa che fa la musica? Adesso sono stanco e sto dormendo. Ma che dici? Babbo Natale sbrigati a venire qui e prenditi questo coso che fa tanto rumore. Io devo lavarmi, ho le piume tutte bagnate ancora, devo andare ad asciugarmi. Babbo Natale, senti, per favore, a questa bambina porta solo il carbone, non portare questi giochi, per favore. Oh, stai zitto! Per favore Babbo Natale porta solo giochi a me, all'altro porta solo carbone, schifezze, ragni. Buoni ragni, ragni, le mosche e altre, e pure le zanzare, ok? Mi fai parlare, per favore? Senti, per favore, facciamo pace. Che cosa? Ecco, dammi questo che me lo porto via, facciamo pace. Facciamo pace! No! Mamma mia, addio! Mamma mia, mamma mia, non è possibile mai che un pappagallo come me, bravo, bello, devo essere così disturbato dalla musica e mi fa venire un mal di testa, meno male che ha un bel cappello, però adesso vado lì e mi arrabbio. Bu! Ti faccio un bu! Bu! Ma mi hai spaventato! Ti ho spaventato, eh? No! No, non mi hai spaventato! No, non mi hai spaventato! E allora ci riproverò. Mamma mia, è proprio terribile, eh? È una femmina, eh? Mamma mia! Signori, attenzione, eh? Mamma mia, è vero! Mamma mia, è vero! No, 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 no.